Andiamo a commentare questa partita con Rocco Longo, si era messa bene per il varapodio, io addirittura ho avuto la palla per portare in piana i tre punti, ma nel calcio non sempre chi gioca meglio o chi gioca bene vince. Al di là di tutto faccio incombolmente alla squadra avversaria, alla società e al mister che sono stati veramente ospitali e questa è la cosa più importante. Le partite si sa come sono, possono andare male o bene, però non hanno demeritato neanche loro a livello di gioco, a livello di condizioni mi sono sembrato un po' più, avevano più gamba diciamo, molti di me ancora sono indietro di condizioni come istituzione, però piano piano cercheremo a livello di condizioni di migliorare e di battagliare fino all'ultimo. Quanto ha pesato nell'economia del gioco l'uscita del capitano che fino a quel momento era il padrone e signore del centrocampo? Per quanto riguarda l'uscita del capitano era già un'ostituzione concordata, anche perché era indietro di condizioni e aveva qualche problemuccio, quindi per non perderlo per più partire ho preferito toglierlo un po' prima, però diciamo che è stato pesante l'uscita del capitano. Una squadra, il parapodio, che fuori casa nella Fossa dei Leoni ha giocato con carattere e personalità. Sì, su questo sono d'accordo. Personalità. Secondo il mio avviso ci è mancato un po' di personalità, specialmente sul primo gol, come ha detto bene lei, potevamo fare il secondo, però le partite si devono gestire in un altro modo, con più ordine e più personalità tenendo palla. Noi in questo non siamo stati bravi oggi. Un'ingenuità grossa, se non grossalana, quella del calcio di rigore perché Caracciolo ormai aveva perso la palla. Sì, infatti. Questa è una cosa che si vedono pure in categorie superiori. Ci può stare, però non sono entrate da fare quelle che ha fatto il nostro difensore. Comunque lo sbaglio ci può stare. Prossimo impegno? Prossimo impegno. Cercheremo di metterci più carattere, cercheremo perché veniamo dalla seconda sconfitta. Ora la cosa importante è fare capire ai ragazzi che dobbiamo riprenderci con volontà e voglia e piano piano le cose riusciremo a sistemarle, sono convinto. Il presidente Filippo Bagnato per commentare questa partita. Niente, diciamo che siamo stati anche un po' sfortunati. Tra l'altro siamo partiti un po' con qualche alciacco in quanto mancano dei giocatori proprio nel reparto di centrocampo. Quindi alcuni si sono dovuti adattare e si è visto presamente che non sono stati all'altezza della situazione. Quindi, diciamo, forse la sconfitta è eccessiva. Anche devo dire che il Melodo ha fatto la sua partita ed è riuscito anche a sfruttare le proprie occasioni. Quindi, tutto sommato, il risultato forse non è, diciamo, è un po' bugiardo. Per 70 minuti avevate la partita in pugno. In pugno, infatti. Purtroppo il calcio lo sapete meglio di me come è andata così. Ci faremo per la prossima volta. Sarà in casa un ritorno contro? Se non erro, forse il Polistena. Un derby. Un mezzo derby, sì. Mister Scordo, la prima vittoria quest'anno in casa e quindi anche in questo campionato di seconda categoria. Una vittoria sudata, ma lei cosa pensa? È una vittoria giusta? Io faccio i complimenti agli avversari che hanno fatto una partita di sostanza e fino agli ultimi 5-10 minuti potevamo anche perderla come potevamo pareggiarla. Noi oggi non abbiamo, avevamo tanti ragazzini che era la prima volta che giocavano con, che si confrontavano con i grandi. Quindi qualcuno era teso e nel primo tempo eravamo un po' incontrati, nel secondo anche abbiamo fatto qualche cambio. Alla fine sono contento solo del risultato. Sì, forse ha sfruttato Candido mettendolo a centro campo e lì è stata la chiave per vincere l'incontro. Sì, Candido ha iniziato dietro perché avevamo problemi, non avevamo difensori puri e quindi ho chiesto al nostro capitano di sacrificarsi dietro per darci una mano, un po' di sicurezza e devo dire che con la sua esperienza ci ha dato tanto. Nel momento in cui avevamo bisogno di Candido a centro campo ha fatto il suo, è dato la scorsa per riuscire a portare a casa una vittoria che devo dire lo scorso anno probabilmente sarebbe finito in modo diverso. Sì, esattamente, gli ultimi 30 minuti avete giocato, avete dimostrato la supremazia e siete riusciti a segnare. Devo dire che faccio i complimenti a chi è entrato e subentrato nel secondo tempo che ha dato un contributo decisivo a questa vittoria che per me è l'inizio di un percorso che mi entusiasma perché avendo tanti giovani di prospettiva e soprattutto dei bravi ragazzi che mi seguono allenamento per allenamento, quindi sono molto fiducioso da questo punto di vista. Quindi l'ultima domanda, il campionato che vi aspettate di fare con la Melitese, possiamo dire al pubblico di Melito che farete un campionato di vertice? Allora io spero che fra un paio di domeniche il campo sarà pieno perché vuol dire che la squadra otterrà i risultati. Il potenziale c'è, come ho detto prima ci sono tanti ragazzini che vengono dal, che l'anno scorso giocavano, facevano le allievi, l'under, quindi dobbiamo dargli il tempo di crescere. Hanno la potenzialità, i nostri giocatori più esperti sono giocatori di qualità, quindi dobbiamo soltanto allenarci, partita dopo partita e poi ci sarà un momento in cui si guarderà la classifica. Ma andiamo per domenica, sabato per sabato. Grazie mister, complimenti di nuovo. Non sappiamo se il mister Tripodi, eroe di tante battaglie, questa sera sia più contento del risultato che del gioco. Vabbè, adesso la domanda me l'hai fatta giusta perché avevo iniziato a farmi una domanda sbagliata nel senso che mi stavi chiedendo se ero contento del gioco e del risultato. Non è così, siamo contenti del risultato sicuramente, che era la cosa più importante. La partita del gioco assolutamente no, perché è stata una partita confusionaria, una partita che alla fine abbiamo meritato di vincere forse, però voglio dire non abbiamo espresso quel gioco che noi dirigenti pretendiamo, che noi tecnici pretendiamo e che la squadra vuole. Abbiamo giocato un po' alla rinfusa, forse era l'emozione della prima partita in casa, ci sono tanti giovani, ci sono tanti andra che hanno giocato, quindi forse è anche concesso, però non siamo contenti del gioco, abbiamo vinto una partita importante. Sempre antipatico fare dei nomi, ma quando ci si ritrova con un giocatore della classe e dell'esperienza di Ciccio Candido, le cose possono mettersi per il verso giusto. Vabbè, Ciccio Candido è un giocatore di categoria superiore, questo è fuori discussione. Considera che da noi ha fatto forse due o tre allenamenti quest'anno, perché per motivi di lavoro, sai. Quindi è sceso in campo privo di allenamenti ed è stato secondo me forse il migliore in campo insieme a qualche altro. È una vecchia bandiera della nostra squadra, è una colonna e dà il suo perché è giusto così. C'è un Saeed Mohamed che si è messo particolarmente in luce. Sì, te lo dicevo prima, abbiamo tanti ragazzini, lui, i fratelli Curneri, ci sono tanti altri. Caraccio. Caraccio, ci sono tanti altri, il Barrega stesso, tutti i ragazzi del 99, quindi ragazzini che ci potranno dare delle grosse soddisfazioni. Già martedì scorso è iniziata l'Under e abbiamo fatto una grossissima vittoria con il Gallico Catona, squadra d'eccellenza, quindi ci siamo imposti nel loro terreno con una partita bella, pimpante, dove abbiamo dimostrato di potercela giocare a lavare anche con squadre di categoria superiore. E questi ragazzi già martedì avevano fatto una grossa partita. Oggi li ho visti un po' più spenti, forse sarà stata un'emozione per l'esordio in casa, casalingo. Però tutto sommato, insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Abbiamo vinto una partita importante. Quando si ha un bomber come Vincenzo Zaccone pronto a togliere le castagne dal fuoco con la zampa di gatto, va tutto bene? Sì, Zaccone in queste categorie fa molto, ma secondo il mio punto di vista potrebbe fare molto, 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 molto di più. Perché Zaccone è un calciatore di categorie superiore, è un calciatore che queste partite le decida da solo quando decide di giocare. Oggi ha deciso di giocare... Negli ultimi 20 minuti comunque la Melitesi è stata padrona del campo, anche se nel finale Burrascoso ha rischiato il pareggio. Sì, te l'ho detto, noi siamo contenti del risultato, ma non del gioco, perché forse alla fine abbiamo meritato di vincere. Ma se il Barapodio avesse pareggiato non è che si poteva gridare allo scandalo. Quindi voglio dire, una vittoria importante, una vittoria importante per noi, che fa ben sperare per il futuro, che dà coraggio ai ragazzi, che dà una verba in più. Quindi speriamo bene per il proseguio, dai! L'obiettivo della Melitesi è sempre quello di una tranquilla salvezza, se però poi, strada facendo, ci dovessero creare le condizioni per entrare nella griglia dei play-off? No, il nostro obiettivo non è una tranquilla salvezza, perché la Melitesi, dopo l'operazione che è fatta quest'estate, ci siamo accorpati in pratica tutti i ragazzi che sono riusciti dalla calcistica, quindi abbiamo fatto una specie di unione con la calcistica. non può non sperare a qualcosa di più, quindi non è una semplice salvezza la nostra, non deve essere una semplice salvezza. La nostra deve essere un campionato da protagonisti. Se così non fosse, vuol dire che abbiamo fallito e che qualcosa non è andato per il verso giusto. Una partecipazione al campionato regionale Under-19? Sì, sì, te l'ho detto, già domenica e martedì abbiamo esordito vincendo una partita con una squadra forte, che era il calcio di Gallico Catona, adesso martedì abbiamo il derby con il Borgo, abbiamo una squadra molto attrezzata. Una stracittadina che richiamerà la polla delle grandi occasioni al Marosimone? No, lo so, vabbè, il Marosimone tu lo sai come, il Marosimone è un teatro, no? C'è gente che viene tipo teatro per criticare e basta, per guardare, per fare l'allenatore fuori dal campo. Il grande tifo a Mello non c'è mai stato, c'è stato sempre, te l'ho detto prima, come un teatro, ci sediamo là a criticare perché siamo i più bravi di tutti per fare questo.